Incidente a Cantiano, un morto e quattro feriti sulla Flaminia. Prima conferenza dei sindaci di AST, Gambini, eletto presidente, Petrucci, vicepresidente. Secondo caso di Denga a Pesaro, si amplia il raggio della disinfestazione prevista questa notte. Più sicurezza al Parco Miralfiore col nuovo servizio di presidio della protezione civile. Pesaro ricorda Don Gianfranco Gaudiano, domani la giornata della solidarietà. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale di mercoledì 9 di ottobre, che apriamo purtroppo con una tragedia stradale. C'è stato infatti un incidente mortale consumatosi questa mattina, poco dopo le 7, sulla strada Flaminia nei pressi di Cantiano. A perdere la vita è stato un autotrasportatore di 59 anni, originario del Riminese. Il furgone che guidava e che trasportava surgelati ha sbandato ed è rimasto coinvolto in uno schianto con un Audi e un altro tir che procedevano in direzione opposta all'uscita della semicurva di una galleria. Risulta grave il conducente del tir originario di Terni che è stato soccorso nelle ambulanze. Feriti anche le tre persone originarie di Cartoceto a bordo dell'Audi. La strada Flaminia è stata temporaneamente chiusa al traffico per un tratto di 5 chilometri. Lasciamo la cronaca e passiamo alla sanità che si interseca con la politica perché questo pomeriggio all'ospedale di Muraglia c'è stata la prima conferenza dei sindaci della neonata azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino. Conferenza che ha eletto il suo presidente, la scelta è ricaduta sul sindaco di Urbino Maurizio Gambini, mentre è stato eletto vicepresidente il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Il servizio. Si è riunita questo pomeriggio la prima conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino nata dalla nuova legge regionale di riforma della sanità. Nella sala formazione dell'ospedale di Muraglia i sindaci dei 50 comuni della provincia sono stati chiamati a votare il presidente della conferenza chiamato a fare da catalizzatore in merito alle esigenze della sanità che immergono dalle varie amministrazioni comunali. Ad essere eletto presidente è stato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, nome fortemente caldeggiato dai sindaci di centrodestra, mentre come vicepresidente è stato eletto il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci figura trasversale ad entrambe le controparti politiche. L'elezione è stata presieduta dal direttore generale dell'azienda sanitaria pesarese Alberto Carelli e da Stefano Pompei, sindaco di Tavoleto, in qualità di primo cittadino più anziano della provincia. Chiaramente mi fa molto piacere riassumere questo ruolo. Io l'ho avuto dal 2014 al 2019 nella mia prima legislatura un ruolo importante, ma non importante perché si decide qualcosa ma si organizzano i sindaci perché tutti i sindaci possano partecipare alla vita sul tema della sanità, delle riforme che fa la regione, dell'applicazione degli atti aziendali, di tutto quello che accade nel territorio in tema di sanità. Purtroppo negli ultimi cinque anni l'assemblea non è mai stata riunita da quando io ho perso la presidenza nel 2019, è un lavoro di coordinamento perché tutti i sindaci devono intervenire, devono poter sapere, capire tutto quello che accade a livello provinciale sul tema della sanità perché i sindaci che sono i primi responsabili della salute dei propri cittadini devono conoscere tutti i passaggi e l'assemblea assume questo ruolo, ha questo ruolo, è un ruolo consultivo ma è chiaro che anche il legislatore contro i sindaci e quindi contro il territorio, contro la gente non può andare, quindi è un ruolo molto importante ma non come presidenza ma come assemblea dei sindaci. Io cercherò di fare il lavoro al meglio, di coordinamento, di riunire i sindaci sui temi che riguardano appunto i temi della sanità. Io ringrazio la trasversalità che ha puntato sul mio nome, ringrazio il senatore Ucchielli e anche il presidente Paolini che hanno proposto il mio nome alla presidenza, ringrazio il centrodestra che mi ha proposto come vicepresidente di questa importante conferenza. Ho deciso di essere l'elemento trasversale cercando di essere un'unione delle due parti, delle due componenti politiche nell'ottica di una trasversalità, sapendo che la sanità non si misura sui colori ma si misura sugli atti e sugli attività che ogni giorno noi sindaci dovremmo fare e questo è l'obiettivo, spronare i sindaci affinché svolgano il loro lavoro all'interno di questa importante conferenza ma anche naturalmente nel percorso territoriale che ogni giorno ci vede coinvolti. Le prime proposte, come dicevo poc'anzi, erano quelle delle formazioni dell'organismo di rappresentanza, elemento importante che esce dai distretti, quello che è l'approvazione del regolamento ma soprattutto andare a lavorare con la regione per quello che è un riequilibrio dei posti letto, cercare di ridurre la mobilità passiva e lavorare sulle liste d'attesa, nonché su tutte quelle che sono le strutture che stanno emergendo in provincia di Pesaro Urbino e non solo. E torniamo ad occuparci del focolaio di dengue, è stato infatti certificato il secondo caso di contagio a Pesaro sempre nella zona mare porto della città. Si amplia dunque il raggio della disinfestazione già previsto per questa notte. Secondo caso accertato di dengue a Pesaro. Dopo quello diagnosticato in Viale Napoli la settimana scorsa un secondo episodio di contagio si registra a poche decine di metri dal precedente in Viale Rovereto, sempre nella zona mare porto di Pesaro. Il comune decide dunque di raddoppiare gli interventi di disinfestazione da Zanzara Tigre rispetto a quello già previsto per il caso di Viale Napoli. Nella notte fra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, dunque fra le 3 e le 6 di mattina, il trattamento adulticida riguarderà Via Amalfi, Viale Battisti, Calatacaio Duiglio, Via Da Vinci, Viale dei Partigiani, Via della Sanità, Via Genova, Via Gorizia, Via Grado, Viale Marconi, Via Monfalcone, Viale Napoli, Via Paterni, Via Pisa, Via Pola, Via Renzoni, Viale Rovereto, Strada tra due porti, Viale Trento, Viale Trieste, Viale Tripoli e Viale Venezia. La ditta incaricata da Aspes proseguirà poi con l'intervento adulticida e larvicida anche nei prossimi giorni. Partirà invece le 15 di ottobre la campagna vaccinale nelle Marche. Anche quest'anno sarà possibile la cosomministrazione congiunta e gratuita di vaccino antifluenzale e anti-covid-19 aggiornato alle ultime varianti. Da domani al Parco Miralfiore di Pesaro ci sarà un nuovo servizio di controllo e presidio del Parco Urbano grazie al Gruppo Comunale della Protezione Civile. Per tre pomeriggi a settimana a rotazione i volontari saranno al Parco per svolgere un servizio di controllo utile a garantire maggior percezione di sicurezza tra gli stessi frequentatori del Parco. Un servizio soprattutto utile nell'assicurare più tempestività e puntualità degli interventi delle forze dell'ordine. Le protezioni civili faranno infatti da sentinella per segnalare in maniera rapida e precisa le situazioni anomali alla Polizia Locale, la quale si coordinerà con le altre forze dell'ordine per risolvere in tempi celeri le situazioni di disagio o di rischio. Dovrebbe essere riattivata nelle fine settimana la biosfera di Pesaro, attualmente spenta dopo l'intervento vandalico di sabotaggio avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsa. Un guasto che è dunque in via di riparazione mentre sono in corso le indagini per capire l'identità di chi ha effettuato questo atto vandalico. Ed ora ci occupiamo di economia e tutela dei consumatori. La fine del mercato tutelato per quanto riguarda gas e energia comporta alcuni rischi che andiamo ad approfondire in questa intervista a Leonardo Massi, responsabile di Adconsum e Pesaro Urbino. È un processo che va avanti da diversi anni, ovvero la liberalizzazione totale, completa del mercato dell'energia e l'anno 2024 è stato l'anno appunto della fine del mercato tutelato sia della luce sia del gas. È necessario specificare che mercato tutelato significa un mercato dove le tariffe sono stabilite dall'autorità di regolazione del mercato dell'energia la rera. E il mercato libero invece è molto più complesso perché le tariffe e le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite dal venditore singolarmente. E quindi ecco dobbiamo fare attenzione perché usciamo un po' dalla concezione che i prezzi sono un po' controllati, sono tenuti sotto controllo e dobbiamo stare attenti perché appunto il mare del mercato libero dove abbiamo più di 700 venditori ci offrono condizioni economiche molto convenienti tante volte ma alla fine quando arriva la prima bolletta tante volte scopriamo che non è così. Quindi dobbiamo fare assolutamente attenzione alle truffe telefoniche, le truffe online, quindi via email, via sms per fare appunto, dobbiamo fare attenzione perché ci possiamo trovare in difficoltà con costi molto elevati. Noi stiamo cercando, abbiamo avviato ormai da diversi anni una campagna di informazione per appunto sensibilizzare i consumatori a magari controllare o comunque capire quali sono i parametri, quelli importanti da valutare appunto per non trovarsi poi delle sorprese perché appunto i venditori sanno benissimo quali sono le lacune dei consumatori e omettono, nascondono dei costi che poi sono fondamentali e appunto comportano veramente degli aumenti spropositati per quanto riguarda i consumi. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. Le immagini che vi mostriamo ce le ha inviate Paola, nostra telespettatrice, e si riferiscono allo squero del porto di Pesaro che come si vede nelle immagini si ritrova intasato di depositi di legname spinti dalle correnti. Una situazione che meriterebbe un intervento di pulizia da parte dell'autorità portuale. E domani 10 di ottobre ricorre il 31esimo anniversario della scomparsa di Don Gianfranco Gaudiano, figura centrale nella stessa costruzione dei servizi sociali della città di Pesaro. Come ogni 10 ottobre la stessa Pesaro lo ricorda attraverso la giornata della solidarietà con vari appuntamenti volte a divulgare l'eredità del prete degli ultimi. Il 10 ottobre di 31 anni fa moriva Don Gianfranco Gaudiano, figura simbolo della solidarietà pesarese e di fatto padre fondatore della filosofia che guida ancora oggi i servizi sociali della città. Da oltre un decennio ogni 10 ottobre Pesaro attraverso la fondazione Don Gaudiano e il Leceis ricorda il valore di questa eredità attraverso la giornata della solidarietà. Lo farà anche giovedì coinvolgendo otto istituti scolastici e ospitando diversi momenti di confronto a cominciare dal mattino al teatro sperimentale che accenderà un focus sul progetto di Casa Moscati che è stata la prima casa d'accoglienza per malati di AIDS in Italia. Il progetto Casa Moscati è nato proprio da Don Gaudiano, era vivo quando è nata Casa Moscati nel 91-92, inizialmente una piccola cosa, oggi sono ospiti di Casa Moscati ben 10 persone che sono lì e vivono la loro vita normale perché oggi grazie a Dio con le terapie che ci sono vivono una vita abbastanza sana, normale, tranquilla insieme in questa realtà assistite dagli operatori di Casa Moscati. L'attività del CEIS e i suoi servizi d'accoglienza ispirati ai valori di Don Gaudiano saranno invece oggetto dell'appuntamento con la cittadinanza che si terrà nel pomeriggio a Palazzo Montagnantaldi. E' certo la comunità di Via del Seminario che continua all'interno del CEIS a portare avanti la sua eredità diciamo perché alcune opere sono passate in altre mani e alcune opere sono nate anche dopo della sua morte. però sempre nel suo spirito e direi nella... ispirate proprio da lui anche concretamente queste opere che sono nate. In mezzo a tanti eventi dedicati alla valorizzazione del tartufo che vi stiamo raccontando in questi giorni nella nostra provincia c'è anche una rassegna autunnale unica nel suo genere, parliamo di Cantiano Fieracavalli. Taglia il traguardo della 45esima edizione Cantiano Fieracavalli che celebra con un contenitore unico nel suo genere un'eccellenza autoctona quale è il cavallo del Catria. La fiera si trarà nelle due domeniche del 13 e 20 ottobre nella splendida cornice del centro ipico Labbadia di Chiaserna. L'evento è stato presentato nella sede di Confcommercio Marche Nord rinsaldando il patto fra Cantiano e la rete promozionale dell'itinerario della bellezza. In un periodo in cui il re tartufo fa da protagonista Cantiano si posiziona con la propria unicità che è il cavallo del Catria che non è un'unicità solo di Cantiano ma dell'intera regione Marche. È l'unica razza autoctona attorno alla quale si crea un evento ormai che calca la scena nazionale. Ecco, un contenitore Fieracavalli nelle due domeniche centrali storiche di ottobre alla 45esima edizione. Quindi un mix tra enogastronomia di qualità, il cavallo chiaramente, gli sport equestri, gli intrattenimenti musicali per bambini. Una giornata in cui si ritrova quel rapporto naturale tra uomo, natura e cavallo. E' questa forse la forza e l'unicità di questo evento a livello nazionale. Di non svolgersi in un padiglione fieristico bensì alle pendici del Monte Catria. Quindi più di un ettaro di superficie in cui godersi appunto in maniera così spensierata e ritrovare questa sinergia con la natura ed apprezzare l'unicità del cavallo, di questo animale mansueto con cui è possibile in queste due giornate avere anche rapporti diretti. Quindi salirci, toccarlo, viverlo proprio nel suo ambiente naturale che è quello appunto da cui prende il nome, che è il massiccio del Monte Catria. Questa mostra ci sta particolarmente a cuore non solo per il fatto che ha al suo interno eccellenze e questa peculiarità di riscoperta del verde, della natura e quindi del contatto che possono avere poi le persone, le famiglie con la stessa, ma perché è un simbolo di rinascita. La fiera del cavallo di Cantiano, voluta fortemente dall'amministrazione dopo tutto ciò che è successo, ha dato l'imprint, ha dato veramente il senso della ripartenza, non solo per le fiere regionali, ma anche per tutte le attività e i cittadini di Cantiano. Quindi è sicuramente una fiera che vale la pena di visitare, ma è un simbolo fortissimo di rinascita e di speranza del nostro territorio. Per il tramite del cavallo noi riusciamo a raccontare le bellezze del nostro territorio, quelle alimentari, quelle agroalimentari, la nostra storia, la cultura, le tradizioni di un'intera comunità. Quindi abbiamo deciso di giocarsi anche la carta dell'edizione primaverile e raddoppiare nelle due domeniche l'edizione autunnale e creare di Cantiano Fieracavalli l'evento principale dal punto di vista promozionale di ricaduta economica reale sul territorio che, assieme all'altro evento, quello identitario-culturale che è la turba, ormai senza soluzione di continuità promuove Cantiano tutto l'anno. Rafforzare la sicurezza di attività commerciali e di imprese attraverso un più ampio ed efficace utilizzo di sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le sale operative delle Forze dell'Ordine. E questo è il senso del protocollo firmato in prefettura dallo stesso prefetto Emanuela Saveria Greco con i responsabili delle associazioni di categoria Alessandro Ligurgo per Confesercenti e Amerigo Varotti per Confcommercio Marche Nord. Un accordo firmato alla presenza dell'equestore Francesca Montereali, del comandante dei carabinieri Alessandro Corda e del comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza Luigi Sorrentino. Il comune di Gabicce Mare ha partecipato al bando della Regione Marche per i servizi digitali integrati, aggiudicandosi un finanziamento di 45 mila euro con un progetto che si svilupperà attraverso diverse azioni già in fase di progettazione che porteranno alla creazione del portale turistico gabiccemaremonte.com Il comitato di Pesaro della Croce Rossa italiana invita la cittadinanza a partecipare all'open day che si terrà il 12 ottobre presso la sede di Via Gradara dalle 8.30 alle 16.30, periodo in cui i volontari saranno a disposizione per illustrare le numerose attività svolte dalla Croce Rossa dall'assistenza sanitaria di base all'emergenza passando per i progetti sociali e umanitari. Nell'occasione sarà anche inaugurata una nuova ambulanza e donata una carrozzina ad una bambina disabile. Ad Isola del Piano, gran finale per la chiusura della mostra in Punta di Ago organizzata dalla Proloco nell'ambito delle manifestazioni che il comune ha dedicato al tema della donna rurale all'interno delle progetto 50x50 Capitale al Quadrato. Il 13 ottobre alle 17.00 all'auditorium dell'annunziata di Isola del Piano è stata organizzata una presentazione di abiti sartoriali allestita dalle curatrici della mostra. Parteciperà all'evento l'Istituto Omnicomprensivo della Rovere di Urbani a sezione moda con alcune creazioni realizzate da studenti e studentesse. Presente anche lo stilista Angelo Cruciani-Giesael ed Elena Mancinelli con gli abiti ecosostenibili di altra moda. E concludiamo il nostro notiziario con lo sport. dopo la vittoria con Avellino tornerà in campo sabato la VL a Rieti. VL che intanto però continua con le presentazioni dei suoi protagonisti di questa stagione. Oggi è toccato agli americani Ahmad e King, ospiti nella sede dello sponsor Banca di Pesaro. Con il sorriso ritrovato dopo la vittoria su Avellino, la VL continua le presentazioni dei protagonisti che stanno affrontando questa avventura bianco-rossa nel campionato di Serie A2. Oggi pomeriggio nella sede di Via Milano di Banca di Pesaro, storico sostenitore del basket bianco-rosso, hanno preso la parola i due americani dai quali ci si aspetta tanto, Khalil Ahmad e Vijay King. Sicuramente un campionato molto intenso, questa lega è molto competitiva. Qui a Pesaro c'è una grande passione per la pallacanestro, lo sapevo perché comunque alcuni miei amici avevano già giocato qui e quindi dire sì a Pesaro era sicuramente la cosa giusta da fare. C'è tanto da fare, tanto lavoro da fare, il potenziale però lo abbiamo sia a livello di squadra che a livello individuale, quindi sicuramente sono convinto che col passare delle partite potremo fare sicuramente sempre meglio. Ho deciso di venire qui perché sicuramente è un'ottima opportunità di crescita sia a livello personale che di squadra. Ci sono due obiettivi chiari da raggiungere. La stagione è iniziata in maniera molto intensa con tante partite in poco tempo. La prima partita in casa non è andata bene, cercavamo subito di riscattarci davanti ai nostri tifosi e ci siamo riusciti, però è veramente ancora molto presto per dare dei giudizi. L'avevo già visto in foto, però sinceramente giocare in arena, nella nostra arena, davanti al nostro pubblico fa tutto un altro effetto e mi sono reso conto davvero di cosa significa giocare in casa a Pesaro con migliaia di persone, quindi il clima è ottimo sia da un punto di vista atmosferico che del clima in termini di passione. Nell'occasione della presentazione Banca di Pesaro ha annunciato anche alcune importanti novità che rafforzano i legami fra la banca e lo sport. Diciamo che la nostra sala qua di Via Milano che è sopra la filiale della maestorica è l'occasione per mostrarla anche ai giornalisti un pochino alla stampa e quant'altro perché rappresenta per noi veramente il ferro all'occhiello. Ci mancava uno spazio così dedicato e grazie alla sensibilità del Consiglio dell'amministrazione sempre pronti ad investire ha dato la possibilità veramente di dare questa opportunità. La utilizziamo principalmente per convegni, sala corsi e quant'altro. Quale meglio occasione di presentarci con una partnership importante con la VL Carpegna Prosciutto che per noi rappresenta veramente una cosa molto importante al di là dell'ambito sportivo ma questa partnership vuole significare ancora una volta vicinanza alla città vicinanza alla comunità vicinanza allo sport e quindi un abbinamento importante Pesaro e Banca. Annunceremo questo business school se la vogliamo essere un pochino darci un po' di tono in cui come Banca di Pesaro e la società VL hanno stretto questa collaborazione per iniziare dei seminari formativi in cui non si parla solo di sport si parla di finanza, leadership un argomento importante che è l'esigenza artificiale che in questo momento sta andando veramente per la maggiore in cui metteremo a disposizione la sala metteremo a disposizione dei docenti a favore dei consorziati aziende, clienti e qualunque persona abbia interesse ad approfondire determinati tempi. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da quello che arriva subito dopo il TG alle 20 una nuova edizione del magazine La Natura della Cultura questo forma dedicato agli appuntamenti riguardanti Pesaro capitale italiana della cultura 2024 andremo a scoprire il docufilm di Fabio Galli sulla stessa Pesaro 2024 nascita di una capitale appuntamento dunque alle 20 a seguire alle 21 questo speciale dedicato alla cultura della massoneria a questo convegno che si è tenuto all'hotel Charlie di Pesaro vedremo tutto alle 21 nello speciale realizzato dal nostro Antonio Astuti e poi amministrando i nuovi sindaci un appuntamento che arriva alle 21 e 20 con il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci protagonista nel salotto di amministrando condotto da Antonio Astuti alle 21 e 40 invece andremo a conoscere una nuova attività del territorio parliamo del poliambulatorio Marco Filippini appena inaugurato vedrete tutto questa sera alle 21 e 40 E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi di serata